Si intravedono i primi e concreti spedagli di luce per le 10 risorse ex Intex che sono state contrattualizzate e inizieranno a lavorare nell'ambito dell'attività aziendale di Space Economy. Ulteriori risorse inizieranno il loro lavoro appena dopo aver definito le attività da svolgere nello specifico all'Aquila. Inoltre il management della Thales Alenia Space ha confermato l'attivazione di nuovi colloqui per comprendere come poter utilizzare ulteriori competenze disponibili a completamento del bacino di 18 persone da reinserire. La Regione ha chiesto inoltre all'azienda di ultimare al più presto il cronoprogramma deciso nei mesi scorsi a fine di avere una situazione e un quadro chiaro sia sulle attività intraprese dalla Thales Alenia Space sia sulle risorse utilizzate. A tal riguardo la Regione ha sollecitato un incontro istituzionale appena dopo le ferie estive sulle attività della Space Economy ed anche per illustrare quanto si sta facendo sul territorio con il coinvolgimento degli attori locali, istrettore, spaziale, Università dell'Aquila, Gran Sasso Science Institute e Confindustria.